Direttore, non è semplice rispondere, lo comprendo benissimo, ma oggi c'è ancora spazio per l'etica in politica? Assolutamente sì e anzi credo che sia la chiave di lettura per ridare dignità alla politica. Che ci sia disaffezione e che ci siano molte cose da sistemare, lo sappiamo tutti. Ridare contenuti etici alle azioni anche politiche credo che sia importante. Un valore etico in politica? Questa è più difficile come domanda. Allora, noi di Viverin crediamo molto al valore della configurazione. Adesso tradurre questo in azioni politiche è piuttosto complicato. Diciamo che occorre prendere esempi da testimoni e noi uno ce l'abbiamo, può piacere o no, però il nostro testimone è Cristo. Luce sulla città, le avete accese già da tempo? È un progetto che stiamo portando avanti come Viverin, con la collaborazione, devo dire, anche di altre associazioni e di tante persone di buona volontà. Crediamo che sia necessario essere una presenza viva per la promozione del territorio dove viviamo, per la promozione di Crotone. Promozione culturale, sociale e questa sera poi parliamo di promozione anche politica. Non nel senso di partitica, ma nel senso proprio di questo abitare la città, ecco, politica nel senso di abitare la polis. Quanto è importante, professoressa Via, l'etica nella politica? È l'essenza della politica, non si può dire di abitare la città con dignità, senza avere delle regole di riferimento. Ecco, bisognerebbe con decisione lasciare da parte il cinismo, mettersi al servizio dell'uomo e farlo con onestà intellettuale. L'etica in politica è importante, oggi si applica a suo avviso? Ma io, se devo dire la verità, sono in un mondo che non è il mio effettivamente, perché io, come ho sempre detto, e ribadisco anche, non sono una politica nel vero senso della parola. Io ho vissuto tutta la mia vita combattendo nella società civile e ritengo di voler portare gli stessi valori che hanno sempre, diciamo, caratterizzato la mia vita, che ho seguito in tutta la mia vita, anche nel lagone politico. E non nascondo che qualche difficoltà la sto trovando. In quale ambito la trova? La trovo, come avrò modo di dire, in questa conversazione che ci apprestiamo a fare con gli amici di Vivere In, anche e soprattutto nel fatto che c'è uno scollamento, ho trovato uno scollamento veramente grande tra quella che è la realtà e la vita che si vive in Parlamento, perché le esigenze delle persone, dei cittadini, arrivano in maniera ovattata, a mio avviso, e non vengono prese nella giusta considerazione. Quindi questo mi ha portato a fare alcune riflessioni, che poi appunto stasera vorrei partecipare agli amici che sono presenti. E ricordo che aveva dato una sezione.